e benvenuti in un nuovissimo video oggi andremo a realizzare insieme vedere come si realizzano i monogrammi costituiti dalla lettera tagliata a metà all'interno del quale poi viene inserito il nome per intero in questo periodo sotto natale si utilizzano questi monogrammi per applicarli sulle palline li potete tranquillamente acquistare tutto l'alfabeto già pronto su vari siti come ad esempio etsy come pinterest quindi direttamente dai proprietari oppure lo potete realizzare da voi qualcuno mi ha chiesto come si fanno perché vorrebbero realizzarli a proprio gusto e quindi vi faccio vedere come si fanno e state tranquilli perché è facilissimo avete bisogno di un programma di grafica ovviamente io utilizzerò photoshop ma il principio è identico quindi non vi state preoccupare con il font che preferite per la lettera iniziale quella più grande e poi abbiamo bisogno di uno o più set di elementi in silhouette non in silhouette studio in silhouette vuol dire con la figura tutta in un colore che io sono andata ad acquistare su etsy io ho preso due pacchetti questo di b crafty uk e questo di hq digital art le silhouette sono fatte in questo modo qui come potete vedere costano veramente pochissimo io le ho pagate 2 euro e 07 sono in offerta perché normalmente costano 3 euro 86 quindi se le comprate in questo periodo avete il 50 per cento di sconto l'altro set l'ho pagato 2 euro e 57 anche questo costava 3 euro e 58 e c'è un 30 per cento di sconto ragazzi queste sono risorse che acquistate poi le usate nel tempo quindi non sono mai soldi buttati perché rimangono vostre e ci potete fare qualunque cosa quello che andiamo a fare oggi non lo possiamo fare per quanto riguarda il tema natalizio ma ovviamente lo possiamo fare anche per quanto riguarda qualunque tipo di ricorrenza può essere la festa della mamma lo possiamo fare per san valentino lo possiamo fare per la festa del papà lo possiamo fare per qualunque ricorrenza un compleanno qualunque li possiamo fare a tema ad esempio per rivestire una busta o creare un monogramma per un matrimonio possiamo divertirci a farli come più ci piace ma dobbiamo vedere come si realizzano è molto semplice andiamo a prendere un font io nel mio caso ho preso a telas lo vedete scritto qui sopra ok non volevo un font troppo complesso perché già poi con l'aggiunta degli elementi diventerebbe troppo quindi un too much di cui non abbiamo bisogno allora scegliete un font abbastanza lineare ma soprattutto un font tipografico serif serif sono quei font che hanno vedete questi segmenti d'appoggio ok tutte le lettere fatte così si chiamano serif il sen serif per farvi vedere la differenza è questo eccolo qua questo è un carattere tipografico senza serif quindi senza questi segmenti che si trovano sull'altro tipo ma torniamo alla nostra lettera andiamo a lavorare in bianco e nero quindi faremo la nostra lettera nera adesso me la ingrandisco un pochino così la riuscite a vedere meglio in fase di lavorazione se dovete realizzare un'immagine quindi che non dovete andare a ritagliare ma che dovete andare ad applicare su un prodotto cartaceo non avete bisogno di lavorarlo in vettoriale se invece volete utilizzare questo tipo di monogrammi per essere ritagliati e poi applicati su delle superfici le necessitate di lavorarlo in vettoriale perché poi dovete salvarlo in svg per poterlo caricare sui vari plotter nel mio caso che devo solo farvelo vedere userò photoshop ma vi faccio vedere poi alla fine anche come è possibile lavorarlo in photoshop se vi sembra più facile e poi andare a ricavare lsvg da quello che abbiamo preparato sul programma raster voi utilizzate il programma che volete quello con cui riuscite a lavorare meglio quello con i quali siete più abituati perché tanto il principio è lo stesso non cambia nulla allora dicevamo scriviamo la nostra lettera l'abbiamo scritta quindi è ancora uno strumento di testo la vado a convertire in oggetto avanzato di modo che non è più un testo tanto è vero che se ci clicco su non potrò più modificare la scritta e poi mi vado a rasterizzare il livello cosa vado a fare adesso vado a dividere la mia lettera quindi prendo uno strumento di selezione scelgo il punto in cui voglio che si divida la mia lettera e vado a tracciare un rettangolo con la selezione attivata vado su lo strumento sposta lo prendete e lo tirate giù una volta fatto questo in questa fase possiamo anche scegliere visivamente se ci piace magari una lettera che si vede un po più lunga un po più larga se ci piace una lettera più quadrata possiamo andare ad allargare vedete lo spazio della nostra lettera che cosa possiamo fare adesso prima ancora di andare ad aggiungere tutti gli elementi decorativi innanzitutto me ne scendo un altro pochino perché la vedo poco spazio ok dicevo prima di andare ad aggiungere i nostri elementi decorativi possiamo scegliere semplicemente con lo strumento forma di andare a realizzare magari delle linee semplici come questa e prendo una la duplico e metto l'altra in questo modo e anche così abbiamo creato una sorta di divisore oppure possiamo sbizzarrirci in qualche altro modo essendo natale avevo pensato di creare questo stacco con gli sci della slitta e me li vado a ricavare direttamente da una delle immagini che sono andata a comprare allora vado su download oppla sono uscita e mi vado a cercare una slitta eccola qua ovviamente possiamo fare la stessa cosa con lo strumento penna andiamo e ci realizziamo la curva senza problemi allora me la piazzo qui cioè quindi scelgo la grandezza che mi piace di più me la metto in posizione e vado ovviamente a cancellare tutto l'eccesso questo ricetto in più che c'è mi piace e lo lascio qui prendo di nuovo duplica livello ok vado su sposta clicco in un angolo e qui in alto vado su gli angoli e mi segno 180 di modo che mi ribalta l'immagine di 180 gradi e me la vado ad applicare in basso che cosa dobbiamo fare adesso? dobbiamo andare semplicemente ad applicare nello stesso modo tutte le altre decorazioni e iniziamo e iniziamo Grazie a tutti Ed eccoci qua Una volta inserite tutte le nostre decorazioni Vi consiglio di non inserirne troppe Perché sennò diventa veramente un caos Non risalta niente Quando c'è troppo non risalta niente Meno c'è e più prende importanza quel poco che abbiamo inserito E possiamo andare a questo punto a salvarla per intero così com'è Sotto forma di PNG Questo come potete vedere se togliamo lo sfondo bianco sotto È un PNG a tutti gli effetti Ora non ci resta che andare ad inserire all'interno il nome Il corsivo ovviamente occupa meno spazio all'interno del nostro Chiamiamolo corridoio per scrivere Quindi risulterà più piccolino Mentre avete un po' più di gioco Di riempire gli spazi se utilizziamo lo stampatello Ma è tutta una questione di estetica e di gusto personale Questo se vi può interessare il nome del font È un Christmas gloves Quindi è proprio un font tipico per le decorazioni natalizie E andiamo a vedere adesso come si realizza l'SVG di tutto quanto Unisco i livelli perché adesso ci serve proprio tutto completo Salva con nome e me lo vado a salvare di nuovo in PNG Adesso abbiamo due opzioni Possiamo utilizzare Illustrator Oppure possiamo andare a utilizzare un software gratuito come Inkscape E io vi faccio vedere proprio Inkscape Perché tanto la conversione poi è identica Quindi apriamo Inkscape Lo importiamo all'interno del programma State sempre attenti affinché l'immagine rientri perfettamente all'interno dell'area di lavoro Quindi all'interno del rettangolo del foglio Perché tutto quello che salviamo che si trova al di fuori del foglio Non verrà salvato E siccome stiamo trattando un prodotto in vettoriale Non ci interessa se questa immagine è grande 3 cm o 3 metri Perché tanto potrà essere rimpicciolita e ingrandita all'infinito Fatto questo me ne vado su Stando attento a che sia selezionato Tracciato e vettorizza MeetBup MeetBup e Raster sono la stessa cosa Stiamo parlando di un prodotto non vettoriale E noi vogliamo andare a vettorializzarlo Andiamo su aggiorna Andiamo su applica Chiudiamo Vettorizza MeetBup E ecco che cosa è successo Ve l'esposto E adesso vi faccio vedere ingrandendo Che cosa siamo andati a realizzare Come potete vedere qui ho uno zoom molto alto E riuscite a vedere delle linee perfettamente pulite Mentre nel prodotto sotto Nell'oggetto sotto Che è l'oggetto BitMap Che siamo andati a vettorializzare Riuscite ad intravedere i pixel Voi ovviamente andrete a cancellare Il prodotto BitMap Quindi il PNG che avevamo inserito prima E ci andiamo a riposizionare all'interno del foglio Il nuovo oggetto Quindi quello in vettoriale Guardate io per quanto lo ingrandisco La qualità resta sempre perfetta E questo è il risultato che vogliamo avere noi Ma perché facciamo tutto questo passaggio? Perché adesso lo andiamo a salvare Quindi salva come SVG Scriviamo monogramma Natale anche qui ho monogramma M Chiamatelo come vi pare E premete su salva Chiudiamo Inkscape Ed ecco che qui abbiamo il nostro prodotto in SVG Eccolo qui Con qualunque programma Vogliate andare ad aprirlo Vettoriale Vi si aprirà il progetto Significa che Una volta ottenuto l'SVG Voi lo caricate sul plotter Il plotter lo riconoscerà E potrete andare ad effettuare i vostri tagli E potrete quindi andare ad applicarlo Sulle vostre palline Spero di essermi spiegata nel modo più semplice possibile Di modo che tutti abbiate capito il procedimento Fatemi sapere se ci riuscite Se avete qualche difficoltà Qualche problema Scrivetemi E se realizzate qualcosa Se mi taggate Mi può fare solo che piacere Per il resto vi mando un bacio E un abbraccio come sempre E alla prossima Ciao